Era una di quelle giornate in cui tra un minuto nevica. E c'è elettricità nell'aria. Puoi quasi sentirla. Mi segui? E questa busta era lì. Danzava con me. Come una bambina che mi supplicasse di giocare. Per quindici minuti. È stato il giorno in cui ho capito che c'era. Tutta un'intera vita, dietro ogni cosa. E una incredibile forza benevola. Che voleva sapessi che non c'era motivo di avere paura. Mai. Vederla sul video è povera cosa, lo so. Ma mi aiuta a ricordare. Ho bisogno di ricordare. A volte c'è così tanta bellezza nel mondo che non riesco ad accettarla. e il mio cuore sta per franare.